Buongiorno, oggi decisamente meglio, questa mattina alle 5 e mezza, ho provato la febbre, avevo 37, quindi ho preso un'altra tacchipirina preventiva ho cercato di dormire ancora un pochettino, adesso al momento non ce l'ho, ma mi sento anche decisamente meglio sempre solo un po' le orecchie ovattate e tutto questo mal di testa ha dovuto un po' al raffreddore però decisamente meglio, quindi adesso vado a fare colazione e poi vado a sbrigare un appuntamento che avevo questa mattina per forza e poi vediamo in giornata cosa riesco a fare allora, per colazione pensavo di fare il mio amato porridge, visto che è qualche giorno che non lo mangio e poi, no e poi basta, porridge, lo farò con il latte però perché è molto più buono e un po' di burro d'arachidi tra l'altro ho già quasi terminato l'avena, per cui pensavo magari o giovedì o venerdì di andare a fare una bella spesona così mi prendo tutte le cose da portarmi a Padova e da una parte non vedo l'ora che mi prenderò tutte le cosine per iniziare le mie routine a Padova e quindi in questi giorni ragionerò anche su quanto portarmi e quant'altro quindi anche in previsione delle schisce che dovrò fare, insomma devo un po' ragionare e basta, tra l'altro stavo pensando a delle nuove ricette da fare e la mia amica mi ha fatto venire delle idee da utilizzare per cambiare un pochettino o magari anche di inserire i legumi al posto delle proteine giusto per variare un po' poi piuttosto vado a bilanciare alla sera mangiando un po' più di proteine durante la giornata però potrebbe essere una valida alternativa perché io mi stufo facilmente mangiare poi sempre le stesse anche proteine durante la settimana mi annoia parecchio e quindi niente, valuterò anche questa cosa il tofu non so se ce la farò a provarlo ma prima o poi me lo farò a provare però questa dei legumi è una buona soluzione e comunque io ho già una bella zucca che mi aspetta in frigo e penso che in questi giorni la farò spero di che sia bella castagnosa perché la zucca di Elika se è castagnosa è tutta un'altra roba sono pronta per uscire, ci vediamo dopo oggi tra i vari appuntamenti avevo anche l'estetista perché prima di partire per Padova dovevo farmi sistemare i miei piedini dalla mia estetista che è molto brava e avevo fatto anche questo regalo alla mia mamma per il suo compleanno quindi oggi siamo qua con un paio d'ore fisse tutte e due e quindi niente, mi rilasso e mi vado a questo ottimo lettino in cui mi hanno messo per far sciogliere lo smalto comunque sto decisamente meglio, non ho stato tutta la congestione nasale ho bevuto anche che mi hanno offerto un tè caldo quindi sto molto meglio e penso che ormai la febbre non mi torni più incrociamo le dita sto tornando a casa sono un po' senza voce ma decisamente meglio a livello di febbre e quant'altro comunque adesso appena arrivo a casa vado a provarla cioè appena entro in casa la provo e niente, è già quasi mezzogiorno quindi adesso sbrigo due cose e poi preparerò il pranzo tra l'altro la mia estetista mi ha regalato questa crema idratante per il viso e io super happy come potete ben sapere che io amo i campioncini allora mi sono cambiata adesso sto facendo un po' areggiare camera perché ancora non avevo fatto il letto questa mattina col fatto che ieri sono stata chiusa in camera con tutti chissà quanti germi con questa influenza quindi ora faccio areggiare bene poi faccio il letto e ho già anche risolto il problema pranzo che non sapevo cosa farmi perché mia mamma fa la pasta al ragù quindi ne approfitto io poi per un po' non mangerò più il ragù della mamma e me la mangio pure io dopodiché nel pomeriggio pensavo di iniziare a sistemare insomma tutte le cose che mi devo portare a Padova per fare anche un po' mente locale perché praticamente quest'estate con la macchina mi ero portata a casa fra tutto cioè quindi sia dai libri che voglio portarmi là sia da tutta la roba di cibo varie cose per cui insomma inizio a mettere un po' di roba anche per fare mente locale e capire quanta roba poi potrò effettivamente portare e anche perché l'anno scorso in realtà il primo viaggio l'avevo fatto con Dani che mi aveva accompagnato lui a fine settembre e per la prima volta quindi avevo portato con lui di tutto e di più poi tipo dopo 15 giorni ero tornata qui a casa in treno ed ero ritornata di là con la macchina anche lì piena di roba quindi non so in realtà quest'anno come farò va bene che un po' di cose sono rimaste là però tipo anche il piumone che ho portato qua a casa a lavare devo portare ancora un botto di cose tra l'altro voglio cambiare cuscino perché quello che sto usando qua a casa mi sto trovando bene però anche la mia cervicale e tutto quindi vorrei portare quello a Padova per cui ho un botto di roba la bicicletta speravo di non dover portare la bicicletta quest'anno ma qualcuno me l'ha rubata e quindi mi tocca pure riportare la bicicletta per cui insomma tutte queste cosine qua quindi oggi pomeriggio ci dedichiamo a quello assolutamente perché poi domani mattina se sto bene volevo fare un giratto al mercato con la mamma così prendo giusto ancora due maglioncini se li trovo un po' carini così e niente poi dopo nei restanti giorni devo assolutamente andare a recuperare la bici da mia nonna venerdì ho la psicologa e qualche impegno vario insomma le giornate sono finite per cui che tristezza cioè sono contenta da una parte infatti la mia estetista mi chiedeva ma sei contenta? sì da una parte sì però dall'altro ovviamente lasciare tutti qua mia nipote il Dania non sarà facile però sicuramente i mesi voleranno io poi sono contenta di portarvi con me a Padova un po' nelle mie avventure quotidiane e proprio voglio anche di rimettermi in gioco rivedere insomma studiare cose nuove rivedere i miei compagni tornare un po' alla mia routine di Padova i caffè quelle cose belle molto comfort e e quindi niente la mia biblioteca che mi aspetta dopo tutti questi mesi di assenza sentirà la mia mancanza per cui insomma torneremo torneremo presto questi giorni voleranno già lo so ora sistemo anche al volo prima di pranzo tutte le cose che ho in giro ancora dal weekend perché ieri non avevo di certo le forze tra cui appunto lo zainetto insomma ho ancora un po' in giro tutte le varie truss che mi ero portata e ho già dato appunto una prima sistemata ai vestiti così almeno mi porto avanti li metto a lavare in tempo prima di partire così fanno in tempo a asciugarsi anche perché poi vedrete in che situazioni mi ritroverò a Padova dove non asciuga niente perché non abbiamo un minimo di balcone non abbiamo modo di far asciugare la roba mi viene già male nel periodo insomma questo qui prima di poter accendere il riscaldamento è proprio un incubo perché almeno queste giornate se si stende fuori o comunque siamo a fare un po' arreggiare la casa le cose si asciugano invece noi no poi vedrete la mia condizione a Padova e quindi mi approfitto finché sono qua a casa per lavare tutto profumare tutto e almeno i primi giorni stare tranquilla e non pensare a queste cose poi dovrò trovare una soluzione pensavo visto che c'è anche una lavanderia vicino a casa magari di di andare lì e tornare alle mie vecchie abitudini di quando ero in Belgio che non avevamo la lavatrice in casa quindi dovevo sempre andare alle lavanderie e quindi niente insomma la situazione è un po' questa dovrei anche sistemare tutte le mie borse tutte le cose dovevo fare un cambio anche armadio vabbè non lo so cosa riuscirò a fare a combinare però ok adesso vi faccio vedere il bordello che ho in giro questo è tutto il casino che ho in giro e adesso cerco di sistemare tutto tra l'altro vi devo svelare questo mio lato di personalità problematico e io dovete sapere che quando vado negli hotel non so resistere a tutti i campioncini gadget insomma che mettono a disposizione del cliente e li porto a casa quando non li utilizzo voi non potete capire guardate questa è tutta la mia selezione lo so che ho un problema ma qua ci sono tutti i prodotti non so questi sono tipo dolce shampoo penso conditioning shampoo body wash tutte varie cremine per il corpo le saponette le cuffiette che queste sono ah no questi sono i vanity i vanity set gli spazzolini questi sono quelli che stavo utilizzando per tipo la palestra quindi sono qua che sono aperti creme corpo insomma di tutto e di più qua dentro forse ci sono tutti gli spazzolini le saponette cioè raga io impazzisco anche perché poi io cosa faccio dico mi tornano utili perché quando viaggio tipo sempre con lo solo lo zaino oppure quando faccio avanti e indietro ma anche lei anche da Padova se mi serve qualcosa oppure quando vado in palestra che io non faccio quasi mai la doccia in palestra quindi non mi porto il bagnosco ma che sono scomoda quello grosso quindi porto le cose piccoline e dico può sempre servire anche appunto quando viaggi visto che non abbiamo tanto spazio si portano i campioncini poi peccato che quando arrivi in hotel i campioncini ci sono e quindi dici vabbè portiamo a casa anche questi quindi in realtà vai un po' con l'idea di magari poi la non ci sono soprattutto all'estero e tutto invece poi li trovi e quindi sono un'accumulatrice ragazzi non posso farci niente ma io impazzisco e i danni prima o poi mi dovrà dare una frenata perché lo sa che ho questo problema e niente quindi vi ho svelato questo lato mio da migliorare e per dirvi che anche da questo weekend ho portato a casa dei campioncini di bagno schiuma e e quindi niente li ho messi insieme agli altri va bene continuo nell'ordinare un po' la camera ci sentiamo tra poco perché sennò qua non smetto di parlare dopo aver pranzato e solito appuntamento con la mia amata Fletcher è arrivato il momento di pensare all'armadio che ho già aperto adesso inizio a capire che cosa voglio portarmi dietro e così inizio un po' a preparare tutte le cose non sarà per niente facile decidere cosa portarmi dietro ma perché dovrò iniziare a portare anche poi un po' la roba invernale cioè ne devo approfittare adesso finché ho la macchina perché poi col bagaglio a mano diventa veramente difficile portare troppe robe soprattutto perché porto magari già non so un giubbotto è già piena la valigia quindi devo cercare di iniziare a portare quanto è più roba possibile adesso quindi avrò la macchina carica come non so cosa ho iniziato a preparare alcuni vestiti tra l'altro maglioni come questo stra pesanti ma per forza perché davvero non sapendo quando poi tornerò e considerando che in valigia c'è già un maglione del genere mi occupa metà della valigia bagaglia a mano devo per forza portarla adesso però mi sono un attimo interrotta perché siccome avevo freddissimo devo aver preso un po' freddo oggi dall'estetista ho fatto una doccia calda così mi sono ripresa adesso infatti quasi caldo e faccio un cambio e adesso perché io sono così inizio una cosa poi devo più entrerla lì e fare qualcos'altro comunque inizio a fare parte libri quindi tutti i libri che mi devo portare a Padova e ci sarà da ridere perché li avevo portati qua con la speranza di leggerli quest'estate e di non riportarli là di modo che poi ne avrei presi altri invece ne ho letti pochissimi quindi questi torneranno tutti a Padova per cui iniziamo per esempio allora questo è quello che ho letto devo renderla Dani questo è da portare questo è da portare questo me l'ha prestato la mia psicologa è da portare questo è da portare questo è il libro di quest'anno di pedagogia mi sa che lo lascio qua e di quelli dietro po' 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 questo è da portare il cervello del paziente prima o poi devo leggerlo questo sicuro tra l'altro mia mamma mi aveva comprato questo libro e ne parlavo giusto con la mia amica l'altro giorno che appunto stavano dicendo ah è quel libro lì e io ho detto cavolo ma io poi non l'ho più finito di leggere ce l'avevo tipo iniziato poi non mi ricordo per quale motivo forse quando andavo ancora a Milano ai tempi in treno e poi non avevo più avuto modo di leggerlo e mi sono accorta che non era più nella mia libreria perché l'aveva messa mia mamma nella sua libreria quindi mi è proprio passato di mente per cui adesso l'ho recuperato perché vorrei leggere anche quello come se non avessi poca roba da leggere adesso poi vi faccio vedere quanto roba ho in portapadua non so neanche dove metterla visto che ha un buco di camera per fortuna Dani mi ha messo almeno quelle quattro mensole ma vabbè ho deciso di fare così porto questi con l'obiettivo di finirli adesso mi do degli obiettivi tipo che ne so entro Natale devo leggerne tot così poi li porto a casa e man mano che torno a casa ne porto la uno così faccio uno scambio e vediamo se riesco a mantenere gli obiettivi la vedo dura con l'università tutto il resto ma ci proviamo allora ho smontato anche il mio fantastico tra piedi che mi aveva regalato mia nipote che utilizzo per le registrazioni ed eccolo qua riuscirò quindi a metterlo direttamente nella sua scatoletta così non mi occupa spazio dunque per oggi mi sa che mi fermo un attimo e poi nei prossimi giorni insomma metterò altri vestiti devo pensare anche tutte le scarpe da portare tra l'altro dovrei far fare anche delle lavatrici a mia mamma tipo ci sono dei borsoni delle cose che voglio portare vorrei dargli una sciacquata e quindi devo sbrigarmi perché poi mia mamma mi dice sempre aspetti sempre l'ultimo per farmi fare tutto ed hai ragione quindi per questo che mi muovo con qualche giorno in anticipo e niente adesso ho fatto qualcosina ho seguito un po' i miei canali su youtube e mi sa che mentre è arrivata pure mia nipote che ieri tra l'altro tatina sapeva che non stavo tanto bene quindi mi chiamava eccetera perché voleva che andasse a salutarla a giocare con lei adesso magari che sto un po' meglio vado a salutarla ecco sta già piangendo partiamo benissimo non sarà un bel pomeriggio me lo sento annaggia sentite non so se la sentite io sono dal piano di sopra e la sento da fuori che è ancora in macchina che strilla come una pazza mamma mia cosa sarà successo non lo voglio sapere e poi voglio fare anche una merendina però ho un po' di mal di pancia un po' di disturbi alla pancia non so se siano legati anche al fatto che purtroppo oggi mi è arrivato anche il ciclo quindi per concludere benissimo questo periodo di insomma dove non sono proprio in forma proprio questa settimana doveva capitare tutto vabbè e quindi insomma mangerò magari qualcosina anche perché stasera io non ne avrei molta voglia perché sono KO ma ormai mi ero organizzata da tantissimo tempo che volevo andare a portare mia mamma a mangiare questa pizza guardate là intanto librerie di mia mamma cioè enorme sono un sacco di piani e non ho appreso molto da lei perché lei questi libri si ridibora in pochi giorni c'è un librone grosso così torniamo a noi dicevo che è dopo una vita che abbiamo volevamo andare a mangiare la pizza io mia mamma questa sua cara amica con sua figlia abbiamo finalmente organizzato giustamente io e mia mamma ci ammaniamo quindi vabbè niente non abbiamo altre occasioni quindi dobbiamo andare per forza oggi perché poi io parto per Patova l'altra ragazza la figlia di questa amica di mia mamma parte per l'Erasmus chissà poi quando torna per cui stasera dobbiamo andare quindi ho questi crampi alla pancia sono tutta conciata così ma in qualche modo ce la farò mamma mia quindi ci tengo ci tengo particolarmente e quindi andrò adesso smetto di camminare per il corridoio e vado giù a vedere cosa è successo a mia nipote sono riuscita a far calmare mia nipote non si sa ha detto mia mamma che già dall'asilo frignava e secondo me era arrabbiata era nervosa quindi sono riuscita a calmarla ma ho questi crampi all'addome che quindi niente sono rientrata l'ho salutata lei no zia faccio no vado un attimo a stendermi perché non non c'ha po e e quindi niente mi faccio una tisanina misa calda bene tisanina fatta biscottini alle lenticchie e mi rilasso un pochettino vediamo se mettendomi un po' tranquilla questi crampi si riducono me lo auguro quindi ne approfitto guardo un pochettino di di netflix e mi mi rilasso un po' qua al caldo allora sembrava che mi erano passati un po' i crampi ho sentito che mia nipote era rientrata in casa con mia mamma a giocare allora ho detto vado giù un po' a salutarla e lei mi fa no zia bibi zia vai a letto e io faccio deve andare a letto la zia perché c'ha la bibi sì zia a letto allora niente mi ha rispedito a letto allora purtroppo i crampi non sono finiti io sono stata comunque a letto ancora un'oretta e mezza ma ho ancora questi dolori ormai avevo detto che andavo a mangiare la pizza quindi andiamo contro ogni mia voglia e ovviamente sono super coperta perché ho freddo e non mi va di riammalarmi di nuovo per cui mi metto le scarpe e andiamo a mangiare la pizza eccomi rientrata dalla pizzeria i crampi purtroppo non mi hanno abbandonata è stata un po' una sofferenza ma anche perché mi facevano un male non male le orecchie però erano tutte uvattate quindi non lo so non mangiavo neanche così con percependo totalmente i gusti quindi insomma io ho preso la mia solita pizza per non sbagliare quindi poi siccome ci ritornerò con i miei amici venerdì cambierò gusto a questo punto avendola già presa oggi però sono contenta insomma di aver portato fuori la mamma che avessero la sua amica eccetera quindi bene adesso mi sono fatta una tisanina alla camomilla e finocchio così magari mi aiuta un pochettino e e poi vedo se leggere un pochettino prima di andare a dormire perché ho iniziato oggi pomeriggio non so se alla fine ve l'ho detto ma mentre ero un po' a cercare di farmi passarsi i crampi ho iniziato la ragazza del treno non mi sta prendendo tantissimo come dicono e come mi aspettavo vediamo diamogli un po' una possibilità se mi prende per cui io adesso vi saluto spero domani di vedervi finalmente che sto bene al 100% per cui io come sempre vi ringrazio per avermi seguita vi invito a lasciarmi un like se vi fa piacere e iscrivervi ancora se non l'avete fatto al mio canale e al canale delle parole dove trovate sempre i miei contenuti di psicologia come sempre se volete mi trovate anche sui social e noi ci vediamo a domani ciao ciao